Vai! Vai autovistico e ativador! Vai autovistico e batalha! Laumإ! Laumita Stavi! Perf 시간er! Perf? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo questo incontro, signori, una pausa di 5 minuti fiscali, dopo di che partiamo con il capo, così come era una scaletta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.